Ciao, in questo video ti faccio vedere come tu e un tuo amico potrete guadagnare 25 euro a testa consigliando cambiavalute.ch Ti faccio vedere come fare Vai sulla home di cambiavalute.ch Clicca sul tasto menu e loggati all'interno del sito A questo punto clicca sul tasto invita i tuoi amici e guadagna Scorrendo su questa pagina potrai anche condividere su whatsapp il tuo codice In questo modo io lo mando a Luca di Scacciati, che è un mio amico Clicco su avanti e poi clicco su invia In questo modo Luca riceverà il mio codice e sia io che lui potremo guadagnare 25 euro una volta che avrà effettuato il primo cambio da 3000 franchi Non c'è un limite di amici che ci puoi presentare Più amici ci porti, più guadagnerai tu e loro